Si alzano colonne di fumo dalla zona di demarcazione tra Israele e Libano. L'area è tornata ad essere terreno di scontro dopo l'attacco rivendicato dagli Esbollah a un convoglio dell'esercito israeliano. Una bomba al margine dell'altopiano del Golan, oggi controllato in larga parte da Israele, di cui il Libano chiede da tempo la restituzione, ha ucciso due soldati israeliani, diversi feriti. Tel Aviv in risposta ha lanciato dei raid aerei contro le postazioni Esbollah. Nel fuoco è stato colpito a morte accidentalmente anche un casco blu spagnolo. Chi è dietro a questo attacco pagherà caro, ha detto il premier Netanyahu. Tempo fa l'Iran attraverso gli Esbollah ha cercato di creare un ulteriore fronte terrorista contro di noi sulle alture del Golan. Prevediamo un intervento massiccio per contrastare questo piano. Nel villaggio di frontiera libanese decine di manifestanti sono scesi in piazza in sostegno agli Esbollah, con un comunicato al movimento integralista Shita attribuito all'attacco ad una cellula denominata Martire Eroici di Cuneitra, zona che appartiene all'altura del Golan.